Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio umile canale YouTube. Oggi è un giorno di vigilia perché domani la Juventus affronterà il Lipsia e una partita in trasferta di Champions League, la prima partita in trasferta di Champions League di questa stagione numero 24-025, la prima partita in trasferta di Champions League della Juve di Tiago Motta e di Tiago Motta. Quindi sarà molto interessante vedere se la Juve riuscirà a proseguire sulla stessa falsa riga già vista con il PSV Eindhoven, dove la Juventus ha vinto per 3-1 una partita dominata, secondo me lungo e largo, dove però Tiago Motta ha avuto un pochettino di cose da ridire per voler correggere la Juventus e farla arrivare più vicina a quella che è la sua idea di calcio. Io credo che non sia nemmeno una coincidenza che da quella partita in poi la Juventus abbia iniziato ad avere molto più possesso palla rispetto all'avversario. Col PSV Tiago Motta lamentava di aver subito il palleggio degli avversari e credo che anche banalmente la partita contro il Napoli sia stata una chiara espressione di quello che invece vuole l'allenatore, un possesso palla in cui la Juventus domina tutti questi la partita. Il problema è che in alcune occasioni poi ci siamo ritrovati senza segnare gol. Quindi la Juventus oggi avrà una conferenza stampa di vigilia come normale che sia, lo farà una volta arrivati all'Ipsia. Tiago Motta insieme a un calciatore come sempre avviene in caso di vigilia di Champions League parleranno intorno alle ore 18.15-18.30 quindi ci vediamo stasera per un altro contenuto dove andremo ad analizzare le parole e cercheremo di capire anche se ci sono delle novità fronte formazione perché poi sarà l'argomento principale di questo video. Io credo che questa partita sia fondamentale per la Juve per capire di che pasta è fatta questa squadra perché ovvio che in Serie A abbiamo un torneo differente rispetto alla Champions League anche se in questo momento la Champions è quanto più possibile vicino effettivamente a un campionato a squadre a 18 squadre quelle che sono in Champions c'è un formato diverso quindi questa prima parte che è una sorta di campionato generale a girone unico e poi ci saranno delle eliminate delle squadre che andranno ai playoff e delle prime otto invece che accederanno direttamente alla fase successiva quindi oggi in questo momento la Juve è all'interno effettivamente di un campionato chiamato Champions però è ovvio che è necessario guadagnare più punti possibili qualificarsi nelle prime otto e togliersi di mezzo uno spareggio che potrebbe diventare poi molto brutto oggi la Juve è letteralmente ottava ok quindi sarebbe qualificata ma è passata una sola giornata è ancora troppo poco e voglio vedere se quando si alza anche il livello e si affrontano squadre che si conoscono un po' meno rispetto a quelle di Serie A che è molto più facile eseguire anche banalmente per noi tifosi perché io l'Ipsia non lo conosco e sono molto curioso di vedere che squadra sarà però quando si alza il livello voglio vedere se la Juve riesce a ritrovare se stessa riesce a ritrovare non solo il palleggio che cerca Tiago Motta ma anche le occasioni da gol perché col PSV è vero che il PSV qualche occasione l'ha avuta però mi è sembrato molto belletario e il gol è arrivato a tempo scaduto quando l'eventus aveva già archiviato la pratica per tre gol a zero è ovvio che in Champions possono esserci più spazi è un discorso che avevamo fatto anche già alla vigilia avevamo fatto il video insieme a Davon commentando proprio la conferenza stampa di Tiago Motta e di Locatelli più spazi significa che la Juve potrebbe trovarsi più a suo agio e non so se in Champions arriveremo a trovarci contro delle squadre che difendono 11 giocatori di trollina nel pallone è quanto più una roba italiana nella fase di non possesso fare qualcosa di simile però magari ci sono quelle squadre materasso che proprio non hanno idea di come fare punti in Champions che devono aggrapparsi all'idea che un calcio piazzato robe del genere possano poi sbloccare la partita io non credo che sia il caso dell'Ipsia quindi davvero sono curioso di capire da questo punto di vista se la Juventus avrà più spazi se avrà più occasioni e se riuscirà comunque anche a mantenere il possesso del pallone come piace a Tiago Motta però io oggi volevo parlarvi un pochettino dei giocatori singoli della Juve e ovviamente i giocatori scelti da Tiago Motta per affrontare queste prime partite quindi io voglio cambiare un attimo schermata arriviamo qui sulla pagina di transfermare dove abbiamo tutta la lista dei giocatori della Juventus li vedete qui in ordine di ruolo di Gregorio Perimpi in Soglio Bremer bla 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 io voglio vedere intanto il numero di partite giocate dai calciatori della Juventus e Vlaovic Cambiaso Bremer e il Diz sono stati gli unici sempre presenti in ogni singola partita giocata delle sei di campionato e di quella in Champions League se andiamo ad analizzare per gol Vlaovic è il capo a cannello del torneo poi la Juventus sta segnato con McKennie Cambiaso Bangula Savona Ildis Niko Weha e con Seisau un gol quindi da questo punto di vista capiamo che Vlaovic è il punto di riferimento avanzato della Juventus cioè è il giocatore che deve garantire più gol di tutti ed è una buona notizia a maggior ragione di fronte a quelle che sono state delle giornate in cui Vlaovic non sembrava particolarmente essere affine al gioco di Tiago Motta poi per ogni tanto mi fermo e penso ma Zirze che invece era perfetto secondo me per il gioco di Tiago Motta poi quanti gol è riuscito a fare cioè è ovvio che dobbiamo guardare a due prospettive questa roba cioè Zirze che era perfetto e che riusciva a disaltare il Bologna anche con i movimenti senza palla non era un cannoniere non era un attaccante vero e proprio non era una prima punta e infatti il Bologna ha fatto molto fatica da quel punto di vista il Bologna l'anno scorso ha avuto un'ottima difesa lato attacco non ha segnato tantissimi gol quindi sarà interessante capire se Vlaovic riuscirà davvero a inserirsi all'interno del contesto legato a Tiago Motta perché potrebbe essere addirittura un'evoluzione di quello che era il suo Bologna per ovvie ragioni perché i giocatori hanno caratteristiche diverse quindi l'impianto base è quello difendiamo a blocco basso cerchiamo le ripartenze tanto possesso della palla anche stranardi avversari poi negli ultimi metri meno qualità però probabilmente anche più produzione offensiva per Vlaovic vedremo perché sono discorsi secondo me molto molto interessanti ma abbiamo ancora un record di partite troppo basso perché sette partite non possano dirci niente a maggior ragione con partite giocate in agosto partite giocate a mercato aperto pausa nazionali giocatori che tornano all'ultimo quindi è ancora troppo poco non abbiamo abbastanza materiale per tirare le somme in maniera definitiva possiamo soltanto commentare quello che vediamo di giornata in giornata e cercarci di fare un'idea più generale per quanto riguarda i minuti giocati abbiamo Bremer che è il giocatore più utilizzato da Tiago Motta ora sono curioso perché non mi ricordo però ci provo al volo sono sette partite per 90 minuti e in effetti fa esattamente 630 ovviamente non volevo sbagliare un calcolo banale ma quando si parla poi è facile arrivare a delle conclusioni errate per i ragionamenti e quindi Bremer è l'unico che non ha mai saltato neanche un minuto con la Juventus è il giocatore più utilizzato in questo momento da Tiago Motta quindi possiamo quasi riassumerla in Bremer più altri 10 oggi la Juventus è Bremer più altri 10 abbiamo Dusan Vlaovic al secondo posto che è stato sostituito in due occasioni una volta con la Roma pochi minuti dal termine e un'altra ricorderete con il Napoli per fine primo tempo dove Tiago Motta ha cercato un altro tipo di strada per arrivare a scardinare la difesa del Napoli che poi è rimasta imbattuta il terzo giocatore con più presenze e più minuti è Kenan Hildiz a seguire abbiamo Cambiaso con 551 quindi possiamo dire che sopra i 500 minuti soltanto quattro giocatori della Juventus hanno giocato e Bremer è l'unico che l'ha giocato invece tutti l'insostituibile di Tiago Motta cosa ci racconta questa cosa? Beh che i primi quattro giocatori più presenti della Juve sono due difensori e due attaccanti perché Bremer e Cambiaso vanno a occupare quella casolina difensiva mentre Vlaovic e Hildiz sono giocatori di riferimento avanzato e il centrocampo? Tiago Motta è stato un centrocampista e questa già fa sorridere come cosa perché è un centrocampista che invece vede nel centrocampo il reparto più mutevole in questo momento per la Juventus addirittura abbiamo Di Gregorio che è il portiere solitamente il portiere è una sorta di pietra miliare nel calcio c'è il portiere e poi iniziamo a fare la formazione del portiere o diamo per scontato no abbiamo visto con Tiago Motta che le partite prima della Champions le gioca tutte per in o almeno anche in questo caso abbiamo un campione ancora ristretto però in tutte e due le occasioni il 100% dei casi ci porta a vedere per intitolare la partita prima della Champions League quindi sappiamo che Di Gregorio è il portiere titolare di Champions e di campionato ma in determinate partite si cambia un'altra cosa che ci portiamo dietro dal Bologna di Tiago Motta così come il capitano a rotazione che abbiamo già visto anche all'interno della Juventus tra Danilo che è il capitano di riferimento e quando gioca lui come in occasione dell'ultima partita contro il Genoa ecco la fascia sul suo braccio però quando gioca Gatti il capitano è Gatti se non c'è Gatti non c'è Danilo capitano e Bremer io ripeto poi dopo secondo me Cambiaso e Locatelli sono i primi due indiziati a mettere la fascia al braccio perché Tiago Motta ha già speso volentieri tante parole positive nei loro confronti anche come esempio per i giovani e Locatelli è il primo centrocampista della lista dei più utilizzati da Tiago Motta praticamente al pari di Di Gregorio che dovrebbe essere il portiere principale Locatelli ha riposato in occasione dell'ultima partita di campionato ma è il centrocampista più utilizzato più utilizzato di Cobb Manners più utilizzato di Douglas Lewis che sono stati due grandi colpi nell'estate più utilizzato di Turam che ha avuto un problema in un fisico più utilizzato di Fagioli che è stato il giocatore che ha tra virgolette scippato il posto Locatelli all'ultimo europeo disputato dall'Italia più di tutti gli altri Locatelli è il giocatore di riferimento per Tiago Motta in questo momento nel centrocampo alzi la mano che si immaginava una roba del genere al netto di tutti i colpi di mercato visti dalla Juventus a centrocampo in questa sessione io non me l'aspettavo mi aspettavo un Locatelli diverso senza Tiago Motta e questo ve l'ho sempre detto ma non mi sarei mai aspettato invece di vederlo così impattante e da subito e importante con le gerarchie completamente ribaltate perché io sono ancora convinto ve lo dico anche oggi nel momento in cui Locatelli è il centrocampista di riferimento io sono ancora convinto che alla lunga il centrocampo titolare sarà Turam Douglas Lewis e Cobb Mainers con due centrocampisti a diga davanti alla difesa e con Douglas Lewis che sarà quel giocatore che potrà alzarsi abbassarsi un po' di più con Turam che invece farà il perno il mediano davanti alla difesa perché per caratteristiche mi sembra davvero un insostituibile nella Juve Locatelli farà tante presenze perché comunque poi a centrocampo ci saranno dei cambi e sugli altri vedremo perché McKennie oggi è un titolare e quindi io me lo aspetto McKennie titolare anche domani che ha già trovato pure il gol in Champions League su Fagioli Tiago Motta abbiamo visto che sta iniziando a utilizzarlo come esterno di sinistra tante volte lo mette lì che siano gli ultimi minuti di partita non credo che Tiago Motta inizierà mai o comunque se non in emergenza una partita con Fagioli esterno sinistro però gli abbiamo visto fare questa roba e sono tutte cose molto molto singolari per poi completare con Gatti Calulu Savona che sono i giocatori che comunque Tiago Motta sta utilizzando tanto faccio un esempio Cabal che è partito titolare che è stato titolare anche con l'Elas Verona è partito titolare anche con la Roma così come Bangula perché Bangula e Cabal tutti e due se ci pensate non credo che sia una coincidenza nemmeno questo quindi Tiago Motta li vede come un'unica catena quei due giocatori lì ma da quando poi sono stati sostituiti a fine primo tempo con la Roma noi abbiamo più visti riproposti nelle formazioni anche qui secondo me secondo me poi magari sbaglierò è perché Bangula e Cabal vengano davvero visti come un'unica catena di sinistra come oggi vede invece Calulu e Nico González quindi quando riposeranno Calulu e Nico González ecco che ritorneremo a vedere Cabal e Bangula secondo me questo credo sia dettato dal fatto che Cambiaso ora è stato spostato sulla catena di sinistra perché a destra c'è Calulu che dà più sicuresse probabilmente in questo caso rispetto a tutti gli altri difensori e come potrebbe essere diversamente perché Calulu sta facendo molto bene e quindi con Cambiaso da quella parte viene a mancare ovviamente il posto per Cabal che io pensavo potesse essere utilizzato anche da centrale difensiva vi dico la verità anche quando giocava Cabal e lo ricorderete ci sono i video qua vi dicevo tanto potenziale perché per me Cabal anche fisicamente ha tanto potenziale però alcuni momenti un po' particolari nella partita dove si spegneva io Calulu in questo non lo vedo invece lo vedo pronto sicuro tranquillo sereno quindi mi sembra veramente un passo avanti però mi ha sorpreso devo dire la verità che in occasione del turnove col Genoa dove Cambiaso ha riposato entrato negli ultimi minuti il posto da titolare sono andato a prendere Ruiz piuttosto che Cabal quindi non so se in questo momento ci sono anche altre problematiche o se davvero un discorso di catene Cabal con Bangula sì Cabal con qualcun altro davanti in questo momento ancora no molto molto curioso sono anche curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti perché stiamo iniziando un po' a capire come ragiona Tiago Motta ma l'unica notizia che abbiamo è che oggi Bremer è il titolare è il giocatore è il riferimento per Tiago Motta Gleason Bremer più altri dieci quindi vi sfido prima della conferenza stampa e quindi delle informazioni relative alla probabile formazione chi saranno i titolari della Juventus domani? Di Gregorio e Bremer secondo me per forza di cose a meno che non si decida proprio oggi di concedere il primo turno di riposo a Bremer chissà potrebbe essere Gatti e Calulu la coppia difensiva io credo che Bremer giocherà ancora e che poi riposerà nel caso nel prossimo turno di Serie A che è un po' più agevole però ovviamente sono tutti i discorsi ancora in evoluzione io una fish la punto su Bremer di Gregorio vado a fare la puntata sicura se non sicurissima però chissà che non possono esserci sorprese anche da questo punto di vista perché Tiago Motta è un po' un matto e ci ha abituato a cambiare anche tante cose che per noi erano scontate altre due domande Vlaovic gioca titolare a questo punto direi di sì anche perché non ci sono alternative se non spostare Nico Gonzale su Ildis al centro dell'attacco ma la Champions credo che sia troppo importante per ragionare in ambito turnover quindi io mi aspetto la miglior formazione possibile ovviamente contro l'Ipsia e poi una formazione fortemente rimaneggiata nel prossimo turno di Serie A un po' come abbiamo visto anche con il Genoa che è stato già un piccolo accione di turnover non definitivo ma c'è stato ciao ragazzi grazie a tutti